Archiproduct ha dato la possibilità in uno dei posti storici dei fuorisaloni in via Tortona di poter esporre il nostro prodotto, in questo caso il dot box, che esprime nella sua possibilità di composizione differenziata, perché pensiamo che nei posti di lavoro c'è chi ha bisogno di molto spazio per le carte, chi invece ha bisogno di molto meno, quindi la possibilità di comporre in modo adeguato le esigenze di ogni persona, ogni operatore nell'ufficio è un'opportunità che oggi ci deve essere. Disegnato da Angar Design Group ha questa particolarità, questa maniglietta incavata, questo bordo ricavato con una lavorazione a laser, perché è tutto di metallo, a parte il top che è di vetro, diciamo che dà una connotazione sicuramente per l'ufficio, ma potrebbe essere anche per il living. Un prodotto molto versatile, molto congeniale ai tempi di oggi, l'ufficio è un insieme di prodotti diversi, con un'influenza da parte del living, perché dobbiamo far star bene il nostro lavoratore, perché tiri fuori la sua creatività, la sua innovazione all'interno anche del lavoro, eccetera, e quindi credo che sia proprio un prodotto ideale per arredare gli uffici di oggi e non solo. Grazie a tutti.